Buongiorno a tutti, oggi è sabato 9 novembre ed è la festa liturgica della dedicazione della Basilica Lateranense, che fu la prima basilica ad essere dedicata a Cristo Salvatore dall'imperatore Costantino, poi dedicata a San Giovanni e detta ancora oggi San Giovanni in Laterano. Sappiamo che in epoca tardoimperiale romana la basilica era il luogo in cui si svolgevano i processi, una specie di tribunare pubblico e fu solo dopo la dedicazione di questa basilica appunto che si avviò il fenomeno per cui oggi col termine basilica si intende una grande chiesa in cui poter svolgere culti ufficiali di una certa importanza. La chiesa di San Giovanni in Laterano porta anche il nome di Mater Ecclesiae, cioè la madre di tutte le altre chiese che poi sono state dedicate nel seguito, lungo i secoli della storia. Il Vangelo di oggi allora ci offre una vera e propria riflessione sul valore di questa dedicazione, in particolare sul ruolo, chiamiamolo, materno che la chiesa di Roma, la chiesa del Laterano assume verso tutte le altre chiese del mondo. Ci troviamo in questo Vangelo nel Tempio di Gerusalemme, quando Gesù si imbatte nei mercanti e negli affari di commercio che erano permessi dalle autorità religiose e dal sommo sacerdote negli atri del Tempio per fare concorrenza al mercato gestito dal Sinedio nei pressi del Cedron. Gesù di fronte a questo commercio, diciamo, si erge in modo inatteso, la prende come una profanazione e lui, il maestro della tenerezza, dell'accoglienza, appare proprio come il fustigatore dei vizi e delle corruzioni. Diciamo che biblicamente non è niente di nuovo perché il gesto di Gesù è esattamente in linea con la tradizione profetica che predica proprio la vanità di un culto esteriore fatto di sacrifici di animali basato solo su interessi personali, tutte pratiche che Dio non gradisce e questo tema è la parte appunto della tradizione profetica. Quello che c'è di nuovo ed importante per noi oggi per comprendere e cogliere il valore appunto di questa festa liturgica è che Gesù qui parla del Tempio come della casa del Padre suo. C'è una relazione tra il Padre, la casa, quindi il Tempio e Gesù. Innanzitutto Gesù chiama il Tempio col termine casa che ci fa cogliere un qualcosa di intimo, ci fa apprezzare il valore di un posto in cui si creano relazioni di alto valore affettivo, diciamo primario, e Gesù definisce la casa del Padre come la casa del Padre suo e questo ci fa capire che la casa del Padre di Gesù può essere anche la casa nostra, ma solo se si entra in qualche modo in amicizia con Gesù. Ecco allora il valore della dedicazione di questa prima basilica, così come di tutte le chiese poi, in cui si cerebri un culto, riunirsi come corpo di Gesù, come amici di Gesù, parte di Gesù per entrare in profonda comunione con Dio Padre e permettere a tutti di entrare in questa vita di relazione e di amore con Dio, in modo che la Chiesa, la comunità dei credenti diventi madre. E quindi è grazie alla risurrezione di Gesù che ci fa accedere alla vera paternità di Dio per mezzo della maternità della Chiesa che questo mistero della dedicazione della Chiesa oggi si compie. Comprendiamo allora che ciascuno di noi è in relazione con il Tempio di Dio, ma in modo profondo, intimo. Per questo San Paolo può dire ai Corinzi non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo. Quando tutto di noi vive nella comunione con Dio, allora diventiamo noi stessi Tempio di Dio, così come Giovanni ci dice in questo testo del Vangelo. Gesù parlava del Tempio del suo corpo, ci dice in un altro luogo del Vangelo di Giovanni. Ma questa è una grazia da chiedere al Signore. Chiediamo che ci faccia cogliere almeno un po' la bellezza di questa intimità che ci fa Tempio vivo di Dio. Chiesa madre, comunione perfetta. Preghiamo allora con le parole della Santa che oggi viene ricordata proprio insieme alla festa della dedicazione della Basilica Lateranense, che è Santa Elisabetta della Trinità, una monaca carmelitana che è diventata santa, meditando nella profondità e nella bellezza la vita di relazione di Dio Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Allora con questa meravigliosa preghiera. Mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi interamente per fissarmi in Te, immobile e tranquilla, come se la mia anima fosse già nell'eternità. Niente possa turbare la mia pace, né trarmi fuori di Te, o mio immutabile, ma che ogni istante mi immerga sempre di più nella Tua profondità, nel Tuo mistero. Pacifica la mia anima, rendi la Tua cielo, Tua dimora prediletta e luogo del Tuo riposo. Che io non Ti lasci mai solo, ma Ti sia presente, con fede viva, immersa nell'adorazione, piamente abbandonata alla Tua azione creatrice. E ascoltiamo le parole del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 2, versetti 13-22. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e l'asseduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E i venditori di colombe disse portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i Giudei preso la parola e gli dissero quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora ai Giudei questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù.